Eccola, annullato, visto? Ma che incapaci, non sanno più fare nemmeno quello che facevano 50 anni fa, vergogna. Perché è un oggetto molto avanzato, ha talmente migliaia di sistemi che devono funzionare, parlare all'altra di loro, alla perfezione, eccetera. Sono 15 anni che lo testano, sto razzo, hanno fatto di tutto e di più, eppure c'è ancora qualcosa che può dare problemi. Quindi immaginate già tutte le robe che sono state sistemate e risolte, eppure abbiamo ancora qualcosa per le mani. Mi piace, tutti i commenti polemici che stanno comparendo sono di nuovo del non sapete, bisogna capire, bisogna sempre contestualizzare. Chi è appassionato di queste cose capisce benissimo che cosa stiamo osservando e perché le cose vanno in un certo modo, che vogliono rifare casino, vogliono rifare casino, ma questo è indifferente. E al programma Apollo ci lavoravano 400.000 persone, non ne stanno lavorando così tanto al programma OSLS. Le tecnologie sono diverse, immagini di sicurezza sono diverse, gli investimenti sono diversi. Gli obiettivi sono diversi, i tempi sono diversi, i politici sono diversi, le amministrazioni sono diversi. Come si fa a confrontare le due cose? Non si può confrontare le due cose. Quindi è inutile andare a proferire insulte perché ottenete solo di essere bannati. Fine. Eh vabbè, tanto lo sanno tutti che quello del 69 era tutta una farsa. Sostanzialmente quello che è successo unedì, a parte i problemi legati al meteo, con i fulmine che abbiamo visto, abbiamo pubblicato anche le foto che hanno causato qualche preoccupazione, i problemi principalmente sono stati due. Il primo è stato una perdita di idrogeno nella fase di caricamento dei propellenti, soprattutto una fase di caricamento rapida. Il secondo problema, molto più importante, era un mancato raffreddamento di uno dei quattro motori devono raggiungere una temperatura ideale attorno ai meno 250-251 gradi centigradi. Da quello che è emerso dalla conferenza della NASA, nessuno dei quattro motori ha raggiunto questa temperatura. Tre si sono mantenuti attorno ai meno 245-246 gradi centigradi, quindi leggermente una temperatura più alta. Il terzo, il numero 3, che è quello che ha dato problemi, ha raggiunto una temperatura di meno 229 gradi centigradi. Chiaramente questo poteva essere un problema in quanto poteva causare degli shock termici nel passaggio appunto del propellente. Grazie a tutti.